Benvenuti in questo nuovo video Ok Benvenuti in questo nuovo video Oggi giocheremo di nuovo a Brawl Stars Perché Oh Guardate mi scelgo da questo schermato E Giocheremo di nuovo a Brawl Stars Faremo Ride Fino a quando 31 minuti Terminerà Non è vero No anzi Faremo sopravvivenza solo Rifugio d'emergenza E partiamo E partiamo Sto stick Allora Perché parlo Non ho uno Ma c'è un'altra Vieni qua Boh Vieni qua Vieni qua Maledizione OXIL OXIL sarebbe La versione falsa di OXIL Di MESHIL Di MESHIT OXIL Di chi Di MESHIT OXIL Ghibo kassa Ghibo kassa Go vai Go vai Maledetta Vai via Non scappare Ragazza Quasi un game Ghibo kassi un game Premuto Che perché non Mamma Mamma sta ancora dormendo E E Non posso Rolare E Facciamo un'altra Dai Piatra sta ancora dormendo Mi fratello Ma si sarebbe Sfigata Da E Continuiamo Maledizione Quella Bombardino Lo devo mangiare Ha già mangiato Un tizio Il bombardino Quindi Deve mangiarlo Il bombardino Forza Paso Dai Paso Fai il pacato Paco Uomo Musi Quel power up Che mi è andato Mentre moriva Mi ha Completamente Salvato la vita Me l'ha salvata Tantissimo Non ho detto No Dove attaccare Il primo Invece Che a baby Maledizione Via Vai via Pazzo Non ti avvicinare Doppio Sono morto Terzi Più Sette coppe Onesto Onesto Grado Undici Facciamo Un'altra Un'altra Oh no, no, no Oh no, 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 no Vi dovete vergognare Che dolore Raga, raga, raga Scappa via Basta, stecca, basta Quindi, va bene, più tre coppe Basta che non le perdo Facciamo ancora un'altra 10, 10 e si va E si va E si va I see you Maledetto boh, mi laghi il gioco Cosa? Cosa? One hit One hit Che palle Non ci voglio mai credere Più uno Più uno Questa è l'ultima di oggi Mi raccomando, seguitemi Se vi è piaciuto il video Seguitemi e basta Ok Che altro vi devo dire Mettete un like al video Che mi supporterete E fatemi anche delle critiche Utili per Nei commenti Su qualcosa Non lo so La qualità del video Non Non so Migliorarla Però Solo Ehi Maxine Tu prima mi hai ucciso Di Muri Che stronzo Beh abbiamo Abbiamo perso pure questa Torniamo alla lobby Ciao Buona giornata Spero che vi vada bene La video lezione La video interrogazione La video verifica Non lo so Quello che starete facendo voi E comunque Spero che vi vada bene E Buona giornata a tutti Ciao Ciao